Antonella Clerici, ricargere di un'umanità straordinaria, le mezze calzette e se la tirano. Antonella Clerici commenta l'ospitata di ricargere a Sanremo Young ed è soddisfatta per l'esordio del suo talent show, in onda il venerdì sera su Rai 1. Antonella Clerici commenta l'ospitata di ricargere a Sanremo Young. Alla prova del cuoco di lunedì 19 febbraio la Clerici esordisce così parlando di ricargere, i grandi sono sempre grandi in tutto mentre le mezze calzette se la tirano e rimangono mezze calzette. E invece lui è veramente un grande. Poi torna sull'argomento conversando con Alessandra Spisni, ricargere è un uomo straordinario, è stato di un'umanità e gentilezza anche con i miei collaboratori, un fico pazzesco, molto più bello di persona, che in televisione perché ha un fascino pazzesco. Anche nella scelta dove ha voluto aloggiare è stato un uomo fantastico. Tante volte vediamo degli attori, che fanno un film, hanno successo, ben mezzo, e chissà cosa sono. E poi, sono contenta per averlo conosciuto, era il mio sogno anche quando ho fatto il festival di Sanremo, lo avrei voluto ma per ragioni varie, anche una questione di indegni, di cose sue, non venne. Stavolta ha accettato per l'idea di stare con i ragazzi. È stato un bellissimo incontro. E mi ha preso la mano, ho detto speriamo che non mi sudino le mani, mi sono divertita molto. Antonella Clerici, problemi tecnici in avvio di Sanremo Ion, ma è andata bene grazie alla squadra Rai. E, nonostante qualche problema tecnico in apertura, alla fine la prima puntata di Sanremo Ion è andata bene grazie alla squadra Rai. Io, quando faccio questi programmi, mi sento protetta, so che devo pensare solo a quello che devo fare perché so che tutto intorno è perfetto. Sanremo Ion, Simona Ventura ospite venerdì 23 febbraio 2018 Nella seconda puntata, in onda il 23 febbraio, ci sarà Simona Ventura come ospite, lo ha rivelato il blog di Davide Maggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.